Covid-19 in Sicilia crescita di positivi recuperati, Siracusa stabile nei contagi. Sono 2.734 i nuovi casi registrati a fronte di 17.951 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.675, il tasso di positività scende al 15,2, il giorno precedente era al 20,2%. La regione ha ancora il quinto posto per contagi, gli attuali positivi sono 47.245 con un aumento di 1.290 casi, i guerriti sono 2.352, mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 11.091. Nell'ambito ospedaliero i recuperati sono 586, 13 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 26, 1 in più rispetto al giorno prima. I dati del contagio a livello provinciale è Palermo 957, Catania 892, Messina 579, Siracusa 335, Ragusa 273, Trapani 229, Agrigento 205, Caltanissetta 127, Enna 64. Grazie. Grazie.